Donne lavoro, un riconoscimento a tutte quelle madri, mogli o giovani donne ritenute particolarmente meritevoli per la crescita della propria comunità. Alla memoria di Mafalda Esposito, pasticciera per aver creato e realizzato a Trivento il dolce tipico alla marena a forma di mezzaluna. Alla dottoresse volontaria Rita Fossa Ceca, assassinata nel 2015 in un tentativo di rapina in Kenya. Maria Mastro Iacovo per la decennale dedizione nei riguardi delle persone con disabilità. Elvira Molinaro, imprenditrice nel campo dell'abbigliamento. Rosanna De Paola, distintasi nel settore ortofrutticolo. Annalisa Vasile, esperta per le sue capacità nella danza, musica e attività motorie. Silvia Santorelli, archeologa per i suoi approfondimenti storico-culturali. per l'intero Molise. Ed infine alla giovane soprana Iolanda Massimo per la valorizzazione della sua terra in campo artistico. Otto storie diverse, spesso senza clamori, che hanno arricchito e dato prestigio ieri come oggi alla comunità di Trivento con il loro apporto occupazionale, sociale e di inclusione. Un premio itinerante per un riconoscimento alle donne, in questo caso triventine, che hanno avuto modo di farsi conoscere sul territorio proprio per la loro attività lavorativa e anche per i loro riflessi poi nell'ambito economico-culturale della comunità di Trivento. Forse era un premio dedicato appunto specifico alle donne che mancava in questa regione? Sì, è la prima volta soprattutto che viene realizzato con questa modalità. Un premio che andava fatto alle donne, visto che molte volte silenziosamente lavorano senza avere nessun riconoscimento da parte della comunità e delle persone che le circondano. Un aspetto, oltre quello lavorativo, è anche quello sociale importante nel quale le donne si sono distinte? Noi abbiamo voluto dare proprio questo messaggio. La scelta è stata abbastanza difficile nell'individuazione delle donne. Ovviamente il principio che noi abbiamo utilizzato è quello meritocratico, per cui abbiamo dato valore proprio al loro merito nel tempo e anche a quelle che potevano essere le difficoltà che hanno affrontato nel loro percorso lavorativo. Si può fare di più in questa comunità, non solo le donne, ma tutti donne e uomini? Certo, noi ci impegniamo come associazione di promozione sociale, siamo sempre al fianco di iniziative che possono portare lustro non soltanto alle donne triventine, ma ovviamente a tutta la popolazione di Trivento. Ci avviciniamo all'estate, dalla parte della vostra associazione c'è qualche proposta in particolare? Sì, abbiamo già in programma un evento estivo, si tratterà di una sfilata che verrà realizzata lungo la scalinata San Nicola con l'obiettivo sempre di mettere in evidenza quelle che sono le bellezze culturali di Trivento.